Cominciamo con una domanda a testa, vedremo se abbiamo tempo per farne poi altre, ok? Comincia lui, Magì? No? Giovanni? Buongiorno Gianni Baltagni, Mediaset. Volevo sapere, come sta Bernardeschi, visto che il suo malgrado è diventato un po' l'emblema di questa mancanza di cattiveria sottoporta nella partita contro il Lecce? Bernardeschi sta bene, non è che può essere l'emblema, ha sbagliato lui sottoporta, ma non ha sbagliato altri, quindi è un discorso in veste da squadra, non è un discorso in veste solo Bernardeschi. Buongiorno mister, buongiorno a tutti, sono Abdel Magì di Bingsports. Volevo sapere, dopo 12 partiti tra Champions e Serie A, Sarri è soddisfatto della prestazione della squadra? E voglio sapere cosa manca questa squadra per che Sarri completa il suo progetto della Culeomitus? La squadra sta facendo piuttosto bene, si è adeguata a un nuovo modo di giocare, chiaramente abbiamo tante situazioni ancora da perfezionare, ma questo è normale. La sensazione è che abbiamo ancora potenziale da esprimere, che abbiamo ancora buone margini di miglioramento, quindi penso che abbiamo preso la strada giusta, consapevoli che ci dobbiamo lavorare sopra ancora parecchio. Buongiorno, domani guarda la Sky Sport. Le volevo chiedere se può fare un po' il punto degli infortunati barracciaccati, a cominciare da Pjanic, Higuain, eccetera, eccetera. Chi domani non verrà convocato, se lo può dire, sicuramente, oppure chi è ancora in dubbio? Pjanic è uscito senza lesioni, ma chiaramente è un affatinamento a un adduttore, quindi vediamo oggi, ieri non era in condizioni di poter giocare, lo stesso Higuain che è uscito senza danni notevoli, da un impatto abbastanza violento, è uscito a qualche punto di struttura, è uscito un po' scosso, ancora ieri non era completamente a posto per potersi allenare, vediamo la situazione oggi, e Betancourt invece ieri ha fatto allenamento o no. Douglas ha rincominciato ieri ad aggregarsi al gruppo, quindi è un ragazzo che viene da 45 giorni di inattività, è un allenamento, quindi vediamo se può essere disponibile per un piccolissimo spezzone di partita, ma non lo so ancora. Buongiorno, Nerozzi del Corriere Torino, Corriere della Sera. Voglio chiedere, sul totale dei tiri fatti in Serie A, solo campionato, il 46% finisce nello specchio della porta, secondo i dati Opta. Le chiedevo se lei si è dato qualche giustificazione, cioè cattive scelte, concentrazione al momento del tiro, fisiologico, si può migliorare? Il 46% dei tiri fatti finisce nello specchio della porta, a me non risulta, però noi utilizziamo un'altra agenzia, no, meno, il 40% vuol dire che se fai 20 tiri in porta 10 finiscono nello specchio, è ottimista, però se l'Opta dice questo, noi dobbiamo pensare a noi e non alle statistiche generali, e noi soprattutto nelle ultime 5-6 partite stiamo creando, perché ci mettiamo spesso nelle condizioni di poter essere periolosi e abbiamo una percentuale realizzativa in relazione alle opportunità che riusciamo a creare in questo momento basso, quindi dobbiamo cercare di lavorare su questo, e che poi sia un lavoro materiale o mentale, o più materiale o più mentale, se ne può discutere tutta la vita, secondo me è più un mentale. Buongiorno Ministra, Simone Rover e Ramsesport, volevo sapere come preparerà la sfida con il Genoa, se anche lei come Corini guarderà le sfide anche dell'Andra 19 del Paris Saint-Germain, e che impressione si è fatto di Tiago Mutte in quel poco che ha fatto come allenatore, visto che da anni è considerato un predestinato alla panchina, che premio è in presso punto? Non lo so, l'esperienza da noi è cominciata da pochi giorni, ha fatto una partita, hanno fatto una bellissima vittoria, e dopo i gol di pareggio hanno fatto anche molto bene, è una squadra che ha una qualità tecnica sorprendente per la classifica, che ha, ho visto anche buone qualità di palleggio, di fraseggio, per venire via da situazioni anche abbastanza complicate, quindi mi sembra in pochi giorni qualcosa abbia inciso, anche se l'allenatore precedente era un altro allenatore predilige qualità tecnica e palleggio, quindi ha trovato molto probabilmente terreno fertile anche dal lavoro precedente. Però abbiamo analizzato l'ultima partita, abbiamo visto qualcosa anche dell'Under-19 del PRG, soprattutto per vedere alcuni dettagli che non si sono visti nell'ultima partita. Buongiorno mister, Sergio Baldini, tutto sport. Volevo chiedere a proposito del lavoro mentale, sulle occasioni dopo lei ci aveva parlato di leggerezza, e del timore che magari il creare tanto potesse dare un po' troppa sicurezza ai giocatori. Volevo chiederle se si è confrontato con loro su questo, che sensazioni ha avuto parlandone con loro? È confrontato, più che altro ho espresso quella che è la mia opinione, quello è il mio timore. Quindi vediamo se riusciamo a fare un lavoro misto, cioè nel senso di preparare esercitazioni per questo, ma nello stesso tempo di essere cattivi nel pretendere un certo tipo di conclusione, nel fare certe esercitazioni, perché poi l'esercitazione fino a se stessa rimatebbe, fino a se stessa altrimenti. Buongiorno Ministro, Romeo Agressi col punto com. Le chiedo se tra le varie ipotesi di formazione per domani ci sia anche quella di riportare Quadrado nel tridente offensivo, grazie. Ma vediamo oggi la situazione generale, vediamo oggi la situazione generale perché se non dovesse esserci Gonzalo diventa difficile anche pensare a un 4-3-3. Quindi vediamo prima di tutto, al di sanno i giocatori a disposizione e poi decidiamo. Buongiorno Cotinino a Stampa, buongiorno Ministro. Ciao. Mi volevo chiedere se con la squadra ha parlato anche di questa media goal subita, c'è quasi un gol a partita come media, dove si può lavorare se è anche lì per un aspetto mentale o materiale da correggere? Grazie. Sì, vorrei ricordare che siamo la miglior difesa del campionato. Bisogna anche cominciare a fare i conti con un campionato diverso, un campionato in cui si segna tanto di più e i gol subiti a fine stagione, se il campionato è cambiato così come i caratteristi non potranno mai essere quelli di 4-5 anni fa perché mi sembra che la media goal di tutte le squadre sia superiore. In questo momento il campionato si segna molto di più. Quindi noi nell'ultima partita abbiamo subito gol quasi esclusivamente su rigore. Quindi mi sembra che la situazione non sia così negativa. Sicuramente possiamo fare meglio, sicuramente ci dobbiamo lavorare sopra, però bisogna anche cominciare a considerare che il campionato italiano esprime molti più gol rispetto al passato. Buongiorno, Fabiana Della Valle, Gazzetta dello Sport. Volevo sapere sempre a proposito di difesa, guardavo i numeri di De Ligt e Buffon che hanno giocato, se non sbaglio Bonucci e De Ligt, che hanno giocato quasi 2.000 minuti in due e se uno dei due può avere bisogno di riposo, tutti e due come li vede, se possono affrontare anche questo altro miniciclo di partite. Ma è chiaro che i giocatori quando sono così spremuti, nel senso così utilizzati, hanno tutti bisogno di qualche minuto di riposo. Il motivo per cui hanno giocato sì spesso, quasi sempre, l'ho detto ripetutamente, e per lo stesso motivo riposo a tutte e due in questo momento non glielo do. Chiudiamo con Gioi TV. Buongiorno, mister. Ciao. Marco Zambruno, Juventus TV. Che gara si aspetta domani contro il Genova? Come ho detto prima, mi hanno sorpreso per qualità tecnica in relazione alla classifica, quindi molto probabilmente la classifica in questo momento non è completamente veritiera sulle qualità di questa squadra. Hanno buona qualità tecnica, hanno attaccanti pericolosi, quindi è una squadra che la sensazione è che valga molto di più della classifica in questo momento. E' una partita difficile, ma quando si gioia ogni tre giorni, le partite sono tutte di grande livello di difficoltà, perché la capacità di caricare una partita, subire i down dal punto di vista delle energie mentali e nervose e ricaricare la successiva non è così scontata. E' vero che fa parte della mentalità di una grande squadra, però è sempre un qualcosa da non dare per scontato. Grazie a tutti, buona giornata.